I tedeschi decidono di far saltare le centrali di Ligonchio e vengono su un mattino decisi insomma e allora il comando unico pensando che non fossimo in grado di resistere a un ultimo attacco tedesco così mandò a dire al comando lì a Ramis di minare la centrale non tutto ma di minare i tetti in maniera che cadessero sui macchinari per salvare almeno i macchinari e allora Ramis si rifiutò e disse ma insomma qui siamo 500 partigiani c'era anche un ufficiale inglese eravamo allora eravamo davvero armati c'era di tutto munizioni a non finire mitraglie mortai e a questo punto se se dobbiamo minare una centrale e ci fu una resistenza fortissima anche di notte erano arrivati a meno di un chilometro dalla strada la centrale di predare però alla fine non sono riusciti a fare un passo in più insomma no c'è stato lì c'è stato un bel aiuto della popolazione c'erano gli operai che facevano le trincee le donne che facevano da mangiare insomma c'è stato proprio veramente una battaglia esemplare e un mattino i tedeschi poi si sono dovuti ritirare e per ritirarsi dovevano attraversare una costa e lì con la mitralia era facile ucciderle insomma no allora hanno scogitati il modo hanno fatto dei fumogeni non una nebbia una nebbia in tutta la zona tanto da poter passare la però abbiamo sparato continua ma sparato continuamente le mitrali anche con la nebbia insomma ecco i tedeschi però i loro morti li ha sempre portati via sempre tribolato magari ma li ha sempre portati e quella fu l'ultima battaglia che ci fu sul territorio quella vera insomma ecco dopo attacchi qui e là a un camio così ci sono sempre stati però la battaglia frontale proprio mi ricordo che c'era anche caretti che aveva un distaccamento in mano a prima ora e fu l'ultima insomma ecco perché scappare insomma adesso siamo in cinquecento ci abbiamo tutto c'è anche un ufficiale inglese insomma che figura facciamo insomma e siamo stati lì e alla fine c'è la soddisfazione grande insomma ecco è stata una questa qui non ricordo bellissimo proprio